Come vi avevo promesso ieri, altri video dedicati totalmente al parlare su quelle che sono le migliorie in arrivo su League of Legends e in generale un po' di developer blog, perché spesso e volentieri questi articoli vengono un po' lasciati al caso ed è un vero peccato, perché sono articoli molto interessanti che però non vengono discussi assolutamente. E questo qua riguarda invece il flame, la tossicità e tutte quelle persone stronze che ci rovinano le partite su League of Legends. Vi ricordo se volete sostenere il canale fate una bella sub, mettete un mi piace, un commento, condividete il video, fate quello che volete se volete supportare, se no non importa, voletevi il video, divertitevi e divertitevi. Parliamo un pochino dei flamer, di che cosa vogliono fare, sono sempre i naif quando parlano di cosa vogliono fare contro chi si comporta di merda perché io prego sempre che facciano passi avanti e sembra che questo caso sia davvero finalmente così. Come abbiamo discusso nel corso degli ultimi mesi, la lotta al comportamento negativo su LoL è un'area in cui non abbiamo fatto molti progressi negli anni passati e i quali abbiamo definiti comportamenti che hanno l'intenzione diretta di causare una sconfitta o ridurre la possibilità di vittoria, comprendono il feeding intenzionale, sabotaggio, le monestie basate sul gioco, l'inattività o l'abbandono volontario della partita. Queste sono tutte cose che vogliono andare ad affrontare. In base al feedback dei giocatori e ai dati sulle segnalazioni, crediamo che il modo più efficace per intervenire sul feeding intenzionale e sull'abbandono in attività nelle partite sia di agire su due obiettivi. Uno che è il più ovvio in assoluto, ridurne la frequenza in modo che la gente smetta di farlo. Perfetto, è giusto sottolinearlo, però è abbastanza ovvio che quello è il modo principale per affrontare il problema. Due, che questo non me l'aspettavo, ridurre il danno ai giocatori colpiti. Ho ho! Che in passato erano sempre stati molto scettici in merito. No, ma non vogliamo che se tipo, magari uno va a aff che allora tutti perdono meno lp che è tipo quello che vogliamo tutti quanti. Magari qualcuno può abusare il sistema. E anche io ho ripetuto questa cosa nel tempo perché sapevo già che la Riot rispondeva a quel modo. Ogni volta rispondevo sempre allo stesso modo. Anch'io non ero molto contento perché era una risposta molto vaga e banale. La gente può abusare dei sistemi che gli permette di evitare di perdere lp. Sì, lo capisco ma non condivido. E finalmente sembrano essere anche d'accordo a loro sul fatto che forse non è così stupido pensare di magari punirci con meno perdite lp se abbiamo un AFK. Non possiamo impedire che i comportamenti che rovinano le partite non accadano mai. E per questo è importante minimizzare i danni per chi li subisce. Grazie Riot! Non è quello che stiamo chiedendo da un senso. Allora, c'è una cosa da dire. Allora, può suonare assurdo e magari uno dice vabbè ma lo ripetiamo da sempre. Si vede chiaro e tondo che è entrata gente nuova in Riot e ha detto che cazzo sta succedendo qua dentro? Siete la più grossa azienda di videogiochi al mondo, seconda a poche, e mi state dicendo che siete così stupidi? E tipo hanno dato fuoco a metà dello staff? Non lo so davvero, perché non riesco a concepire come ci sia stato questo 180 di direzione su tutto. Una comunicazione mostruosa, pazzesca, sotto ogni punto di vista. Adesso vogliono finalmente affrontare questi problemi giganteschi che ci sono da sempre. e vogliono andarci nucleari. Non solo, vogliono anche ascoltare quello che è stato uno dei suggerimenti più grossi che abbiamo sempre dato, ma che non è mai stato ascoltato. Holy shit, non sembra neanche Riot. Ed è una cosa positiva. Io non sono incazzato, sono stupito da questa cosa. Perché non me lo aspetto. E molti dicono, eh vabbè ma è sempre Riot. Ma cambiare le persone che ne fanno parte cambia anche l'azienda. L'azienda può avere dei valori, ma se uno li applica di merda, allora non è una buona azienda. Se tu cominci però a vedere, l'azienda ha certi valori e finalmente c'è qualcuno che li applica a modo, un pochino di fiducia ti si riaccende. In questo caso, almeno per quanto mi riguarda, la mia fiducia sta salendo, con tutti i developer blog che stanno facendo, perché parlano, discutono prima, abbertono i giocatori sempre di tutto, anche degli aumenti di prezzi di RP, che questo è successo in Sud America ragazzi, non preoccupatevi, non siamo stati colpiti direttamente a questa cosa. Ma andiamo avanti, andiamo a vedere quello che è il loro approccio. Come già detto negli aggiornamenti precedenti, vogliamo affrontare questi problemi tramite esperimenti continui che abbiano risultati misurabili e siano orientati a una soluzione. E va fantastico. Vogliamo proporvi le nostre idee in modo che possiate detestarle, scoprire quali siano efficaci per dei cambiamenti significativi e immediati. Questo già più interessante. Una funzionalità ha bisogno di anni prima di portare i risultati. Ah, se una funzionalità ha bisogno di anni prima di portare i risultati è troppo lenta. Beh, grazie Graziella, grazie al cazzo. Sto escludendo i casi in cui si parla di politica e governi sul lungo termine. Quello è un altro discorso. Abbiamo implementato il nostro primo esperimento con la segnalazione e silenziamento nella selezione del campione, che in teoria dovrebbe essere attivo da, tipo questa patch, cioè da questo mercoledì per noi Europa. Come detto in precedenza, raccogliere dati specifici su quei comportamenti che accadono prima di entrare in partita, in modo da stabilire quali soluzioni possono essere implementate e dove. Infatti il report in Champions Select, escludendo casi estremamente gravi, attualmente prende e raccoglie dati. Vogliono fare così per un paio di patch e poi cominceranno ad arrivare le punizioni su quello che succede in Champions Select. Durante questi esperimenti misureremo attivamente i risultati e ve li comuniceremo ogni mese. E fino a qua sono sempre stati ogni mese e è arrivato un developer vlog. Le nostre prossime azioni. I progetti qui sotto saranno i prossimi a essere introdotti dopo la segnalazione e silenziamento nella selezione del campione. Questa, l'introduzione non è ancora globale, la segnalazione e silenziamento nella selezione del campione, quindi di conseguenza è anche normale che, finché non è stato attivato ovunque, questi progetti verranno atti. E da un po' che non aggiorniamo il codice degli evocatori, che raccoglie i valori di standard che ci aspettiamo ai giocatori di roll. Eh, questo è tipo, ok. Saremo più specifici nell'elencare situazioni che riteniamo negative e più chiari nell'indicarne le conseguenze. Buono. Almeno sappiamo qual è la punizione commisurata. Consolidare i nostri obiettivi di linea guida come base delle esperienze League of Legends ci permetterà di collegare in modo più netto le soluzioni ai problemi di comportamento negativo. E viena qua, ok. Un regolamento più chiaro e di sicuro aiuta, ma... Dove stanno le botte? Stiamo sviluppando un metodo di individuazione automatizzata migliorata. Eh? Automatizzato non mi piace mai, perché può fallire miseramente. Creato appositamente per il feeding intenzionale e l'abbandono in attività. Molto buono, questo. L'abbandono in attività dovrebbe essere tipo super semplice. Il tizio è AFK. Eh, ma il tizio potrebbe avere problemi con... Il tizio è AFK dopo 30 partite di fila che continua a farlo. Eh, forse ha tanti problemi... No, Riot è uno stronzo feeder che va AFK. Capisco. Banniamolo. Questo dovrebbe essere il processo mentale. L'abbandono in attività per poterli verificare con certezza quanto più rapidamente possibile. Grazie. Per prima cosa stiamo lavorando direttamente al miglioramento dell'individuazione di questi comportamenti. A lo specifico stiamo anche analizzando lo stato di altri per stabilire le nostre prossime mosse per migliorare anche in quelle aree in futuro. E su questo non ho ben capito che cosa intendano, ma sono molto molto curioso quando ne parlo. Stiamo progettando i miglioramenti alle azioni che vengono in tre imprese una volta identificato un comportamento in attività. Si tratterà da un lato di considerare gli effetti di penedità più dure sul gioco. Sì, cazzo! Se uno va AFK, non perché ha problemi di connessione. Cioè, chi ha problemi di connessione verrà percepito come tale. Riot può vedere se ti scolleghi di colpo dal gioco per una disconnessione piuttosto che alta F4. Alta F4 lo percepisce. Anche il terminale processo lo può vedere, lo legge Riot. Dice, ok, questo tizio ha quittato. Può vedere Riot questa cosa, semplicemente perché hai installato il client di LOL. Ma nel momento in cui tu sei scollegato, ovviamente il gioco lo percepisce. Dico, c'è, ok, si è scollegato, la linea è saltata di colpo dal nulla. Capita. Si tratterà da un lato di considerare l'effetto di penedità più dure sul gioco e dall'altro di decidere come fare per ridurre l'impatto di questo tipo di comportamento sui giocatori. E questa è la parte che più mi emoziona. Tipo, yes, sì, cazzo! Le persone che si trovano un AFK in partita o uno che trolla o rage quitta, è proprio questo. Cioè, finché tu rage quitti e io non ci perdo niente, sti cazzi, passo al prossimo game, bene, a posto, easy. Perdiamo un po' di tempo, ci scusiamo con gli avversari perché abbiamo un coglione in squadra. Tutti dicono, no problem, lo riportiamo, lo viene riportato, bannato. Questo è quello che dovrebbe essere il procedimento, cosa che non è attualmente. Ma è dove vogliono arrivare, e meno male direi anche. E poi parlano del fatto che è un lungo percorso davanti a noi, abbiamo molto da recuperare, ma il team è determinato a portare il sistema di controllo dei comportamenti in pari con gli standard attuali. Continueremo ad aggiornarvi ogni mese sui cambiamenti, le soluzioni, i risultati, i nostri obiettivi. Continuate a farci sentire la vostra voce, farci sapere, e qua, via. Allora, io, chiaro e tondo, sono già contento. Avrei voluto vedere e leggere qualcosa di più chiaro, ma già il fatto che dicano vogliamo attenuare l'esperienza negativa, vogliamo non farvi sentire puniti nel momento in cui vi trovate un coglione in squadra, per me è già tanto. Perché almeno stanno ascoltando, cosa che per assurdo uno può dire vabbè, l'apo, ma ovvio che leggono, ovvio che sanno quali sono i problemi. Molte persone sono convinte che Riot non ascolti, Riot non sappia i problemi, quando, beh, a quanto pare se ne rendono conto. Magari non agiscono in merito abbastanza e fretta come vogliamo, ma quello è un altro discorso ancora. In questo caso, nello specifico, invece, sembra che ci stiano finalmente ascoltando, sembra che stiano facendo qualcosa, e continua a dire sembra, prima di dire che è quello che voglio dire, per un motivo molto semplice. Tutto ciò non significa un cazzo finché non vediamo i risultati tangibili all'interno del client, all'interno delle nostre partite, all'interno della quotidianità di League of Legends. E penso che molto di questo approccio sia anche legato a come stiano andando invece i nucleari su Valorant. Ah, Valorant, tu citti? Bene, non puoi mai più giocare al nostro gioco a meno che non cambi il computer. Diversiti. Il che per me è tipo oro colato, cioè per me dovrebbe essere quello, lo standard di punizione. Sei una testa di cazzo, ti baniamo, fine, ma proprio non puoi più giocare al nostro gioco con il tuo computer. Comprate uno nuovo, buona forza. Questo dovrebbe essere il grado di punizione. E non lo dico soltanto per magari quello che uno... Su Valorant questo succede per i cheating. Io lo farei anche per la tossicità. Non ironicamente. E lo dico da persona che in passato è stata una vera testa di cazzo in merito. Io sono stato mostruosamente tossico. Ed era veramente da coglioni esserlo. È proprio stupido. Cioè, se avete degli amici, se avete delle persone che conoscete, delle persone con cui giocate, che passano il tempo a flammare o dire roba orribile alle persone, anche chi gioca magari da poco nel vostro gruppo di amici, che, allora, finché è fatto in maniera scherzosa, è una cosa. Quando uno parla genuinamente e dice seriamente certe cose, pensa certe cose non ironicamente, allora diventa grave. Se uno augura una malattia, augura un cancro a qualcuno, lì, proprio, fuck no, quella è la mentalità che va cancellata. Cioè, ma proprio dobbiamo cominciare a pensare anche noi come community e non dico che è nostra responsabilità, ma dico che anche noi possiamo aiutare a creare una community migliore nel momento in cui, se qualcuno fa il coglione a questo modo, lo cominciamo a escludere, lo cominciamo a mettere da parte. No, zio, non sei il benvenuto tra noi. Lo cominci a ignorare, lo cominci a escludere dal gruppo. Che uno può dire, magari sembra bullizzare, sembra, no, ragazzi, sembra semplicemente vivere in un cazzo di mondo civile in cui ci rispettiamo l'uno con l'altro, in cui ci trattiamo a modo e semplicemente la viviamo in maniera tranquilla. E non dico che non possiamo fare i coglioni tra di noi se siamo tra amici, perché quello è imprescindibile. Finché si è tra amici, no problem. Ma se io trovo un estraneo, non posso trattarlo di merda, non posso trattarlo come fosse il mio migliore amico, che magari tra migliori amici ci trattiamo a cazzo di cane, ma quello sono cazzi vostri. Se vi trattate così, ok, no problem, ognuno vive la vita come vuole, a modo suo. Ma quando siamo con estranei dobbiamo imparare a comportarci. E spesso e volentieri questo nella community league non succede, non succede. E so perfettamente che qualcuno dirà eh, manavo sei pesante, sei giudato. Semplicemente io voglio che questo gioco e la sua community continuino a prosperare e che la gente non venga allontanato perché ci sono una frangia dell'1% di imbecilli cronici che purtroppo la loro soddisfazione più grande nella vita è sfottere l'eleo degli altri, flammare, insultare, rovinare partite agli altri. Non è divertente. È come la testa di cazzo che porta la palla al campetto da calcio sta perdendo e dice guarda a casa. Non fate gli infantili, fate i bravi e pretendete di meglio anche dei vostri. Ma signori e signori, questo è quanto per questo video e noi ci vediamo.